Non si sono presentati all'appello chiamato dal direttore di gara Verna della sezione di Caltanissetta. I giocatori dell'Olimpica Acragas, come era ampiamente prevedibile, non c'erano ieri allo stadio Ferdinando Lombardo, assenti ingiustificati, così per il Castel Termini esordio produttivo senza sudare, per il Biancoazzurri invece inevitabile penalizzazione in classifica, si parte con il segno meno nel campionato di promozione. Ma da una domenica sportivamente buia spuntano i primi raggi di sole, pronti ad illuminare il futuro del gigante. Quando tutto sembrava destinato alla deriva, il colpo di reni che non ti aspetti. Giovanni Amico, presidente dimissionario della neocostituita società dopo il fallimento dell'Acragas, è tornato punto di riferimento. È stato lui a scegliere il nuovo allenatore. Si tratta di Giovanni Falsone, tecnico navigato recentemente sulle panchine di Raffadale Canicattì. Il primo impegno assieme alla dirigenza è quello di formare l'organico. Stiamo lavorando in tutte le ore del giorno e molto presto conoscerete i nuovi volti della rosa e bianco-azzurra, sono le parole di Falsone. Il nuovo allenatore ha annunciato anche che domani sui campi dei fratelli Bellavia sarà avviata la preparazione. Domenica prossima la gara contro l'oratorio San Ciro e Giorgio. Mi rivolgo ai nostri tifosi e le invito a starci vicini. Ha detto Falsone, abbiamo bisogno del loro entusiasmo e dell'immancabile calore. Falsone avrà come braccio destro ciccio nobile e ha chiesto la fattiva collaborazione ad Ernesto Rossella e Giovanni Sorce. Resta poi da capire se lo Stato di Seneto sarà utilizzabile e quando. Le condizioni dell'impianto sportivo sono infatti da rivedere.